eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro gigioio ragazzi proprio qualche giorno fa presumibilmente erano gli ultimi giorni del mese di maggio adesso non ricordo la data precisa vi riportai la notizia secondo fabrizio corona che praticamente parlava di un Dazon in difficoltà economiche grandissime Dazon che stava praticamente fallendo poi nei giorni successivi arrivò la smentita appunto di Dazon e poi è successa una serie di eventi che nonostante le tv e i giornali fanno fatica ragazzi a trasmettere perché si fa molta fatica a trovare articoli in merito ci dimostrano come Dazon sia davvero sull'orlo del fallimento come Dazon sia ad un passo dal capitolare tanto per cominciare ha aumentato i prezzi alle stelle e poi è cominciata la politica dei tagli ne parliamo insieme in questo video ma prima di tutto ragazzi vi chiedo un like al contenuto l'iscrizione al canale perché è gratis se non l'hai ancora fatto iscriviti per far sentire la nostra voce più lontano possibile ragazzi noi cerchiamo di fare un'informazione che è parallela a quella dei media mainstream che praticamente ragazzi filtrano e riportano le notizie solo dopo averle depurate dalle scorie contro l'inter quindi praticamente tutte informazioni propagandistiche pro sistema pro inter che noi dobbiamo assolutamente smentire e avere la capacità di leggere tra le righe quindi iscrivetevi al canale per dare la possibilità a queste notizie di arrivare sempre a più orecchie sempre toccare sempre più persone e diffondersi sempre maggiormente inoltre aziona la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andremo a produrre su questo canale il buon caro vecchio fabrizio corona che quando si tratta di inter è poco affidabile ma negli altri casi ragazzi quando dice qualcosa sostanzialmente dice cose abbastanza vere ci ha preso anche stavolta perché realmente realmente da zone in gravissima difficoltà ed una prima dimostrazione nonostante le smentite della società smentite diritto smentite del caso che naturalmente vogliono buttare acqua sul fuoco ci arriva dal fatto che da zone perde in germania ha riperso praticamente i diritti televisivi facendosi risoffiare da sky cosa che negli ultimi anni non era successa e quindi gli ricapita di nuovo di perdere i diritti televisivi inoltre inoltre ragazzi sono cominciate a circolare delle voci secondo cui da zone nonostante gli aumenti di prezzo sempre crescenti da zona sempre aumentato il prezzo non è mai diciamo stata fedele come poteva essere la politica di sky in passato ai al cliente diciamo che per tanto tempo ha mantenuto l'abbonamento da zone ogni anno aumentato i prezzi e questo proprio per coprire gli ingenti debiti in italia ha investito molto però evidentemente a parte che il prodotto ragazzi perdonatemi ma questo è un giudizio di merito non è un fatto ma secondo me un prodotto altamente scadente che non vale assolutamente il costo e per qualità del prodotto e anche ragazzi stiamo parlando della marotta league un campionato già deciso a priori dove marotta fa e disfa i risultati dove praticamente rocchi e gravina sono lo zimbello di marotta che si muovono a seconda le direttive del boss e quindi ragazzi di cosa stiamo parlando a chi volete che interessi questo campionato e oltretutto ragazzi da zone ora decide di tagliare tutto ciò che non è strettamente inerente all'evento stesso quindi tutti i programmi secondari che non sono direttamente correlati alla partita vengono tagliati e per esempio saltano delle teste importanti come può essere quella di marco cataneo giornalista ex sky come assolutamente uno molto molto importante che negli anni scorsi è stato fondamentale per da zone prima era un ex ragazzi di sky come stefano borghi assolutamente anche lui una voce importantissima che qualche anno fa era presente qui sul tubo uno dei secondo me dei telecronisti più bravi che abbiamo in italia più competente a livello internazionale anche se non molto filo juventino anche lui però ragazzi ormai lo conosce li conosciamo tutti li conosciamo tutti detto questo saltano anche degli opinionisti tipo matri tipo lucatoni naturalmente non salteranno quelli cartonati quelli sono importanti ragazzi devono rimanere le impressioni degli dei diciamo degli opinionisti interisti devono devono rimanere però ragazzi a parte gli scherzi e a parte le battute questo sistema sta crollando e se crolla da zone che ha acquistato i diritti televisivi per i prossimi cinque anni crolla anche tutto il sistema ed è per questo che in questo contenuto come in tutti gli altri vi invito nuovamente i miei follower devono devono necessariamente tutti fare la disdetta ragazzi perché noi siamo prevalentemente giuventini e milanisti che messi insieme siamo il 50 per cento ed oltre del tifo italiano questi qua ragazzi ci stanno praticamente propinando un calcio dove la deve fare da padrone la squadra cartonata prescritta e pignorata e noi ragazzi siamo noi quelli che per il 50 per cento foraggiamo questo sistema che vale la pena ricordarselo in italia la maggior parte dei club hanno come maggiore voce nelle entrate negli introchi appunto i ricavi da diritti televisivi quindi se noi tagliamo i nostri abbonamenti andiamo a vedere la partita al bar magari ci prendiamo una birra con gli amici oppure andiamo ci iscriviamo a un club e la vediamo con i tifosi della nostra squadra noi evitiamo di dare soldi a questo sistema ragazzi gli abbonamenti vanno fatti e non boicottati in un calcio che lo merda ma se noi andiamo a dare soldi al sistema di gravina al sistema di marotta al sistema di un calcio sporco e corrotto siamo degli imbecilli ragazzi perché andiamo a foraggiare quelli che ce lo stanno mettendo in quel posto da tanti anni quindi disdetta ragazzi disdetta e massima condivisione di questo video è fondamentale la condivisione di questo video far arrivare a più orecchie possibili questo contenuto ragazzi questo contenuto lo devono vedere tutti i juventini e milanisti che conoscete perché è importante disdire ma anche tutti coloro che pur non essendo tifosi di juventus e milano diciamo auspicano un calcio dove ci siano pari opportunità dove vinca il più forte dove ci sia una competizione leale tra squadre che non hanno alcun aiuto e in questo momento questo calcio non ci offre questo quindi ragazzi noi facciamogli mancare il nostro contributo economico e vedrete ragazzi che senza i dindini tanti di loro inizieranno a ricredersi sulle politiche inizieranno ad aprire i processi inizieranno ad aprire gli occhi e magari la covizoc a fare qualche controllino ragazzi perché queste cose sono importanti purtroppo l'italia è un paese un pochino anomalo e bisogna oleare bene il sistema e noi invece di olearlo ed ingrassarlo gli togliamo l'olio e il grasso e lo grippiamo ragazzi grippiamo il sistema e vediamo la situazione come si mette massima condivisione di questo video un vostro commento fondamentale come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto e fino alla fine contro tutto e tu sempre e comunque forza juventus